Salve, vi avevo coinvolti pochi giorni fa in una piccola disavventura che mi è capitata con la posta e siccome vi avevo coinvolti lanciandovi un po' un messaggio di pericolo, adesso volevo tranquillizzarvi dicendo che tutto sia risolto. E volevo fare anche il bilancio di quello che è successo, forse perché è un'esperienza che può capitare a chiunque, cioè mi alzo al mattino e vado a vedere la posta di Libero, una casella mia in Libero, c'erò da vent'anni e non era mai successo niente e quindi dopo vent'anni ho tutte le mie cose lì insomma. Faccio per entrare, la password di solito è salvata, la salvo insomma e non mi prende più la password, cerco di vedere perché, perché sono sicuro che era quella, insomma non avevo dubbi, non me la prende, non riesco ad entrare. Allora vado a verificare la password, vado a verificare se la password è corretta e quindi faccio quell'operazione di richiedere la password, insomma metto i dati e mi accorgo che il numero di telefono che mi viene dato come essere il mio per potermi mandare un messaggio non corrisponde. Non corrisponde, non corrispondono le ultime tre cifre insomma. E inoltre che l'intestatario della mail che viene rilevata non sono io e quindi non riesco né ad entrare né a ricevere messaggi, cioè né a ricevere una nuova password da Libero perché non ho più una casella per Libero, insomma, non sono più io. Allora vado un attimo in allarme ma non tanto, se non che entro in Facebook e qui comincio a leggere tutta una serie di messaggi di alcuni preoccupati insomma che mi avvisano se è successo qualcosa, se sono stato in Africa, che hanno ricevuto questa mail e che cosa devono fare. Al che comincio a preoccuparmi anch'io insomma, perché capisco che chi mi ha, cioè tanto capisco che qualcuno mi ha rubato l'identità insomma, l'identità e ha usato questa identità per arrivare alle mie amicizie di Facebook insomma e quindi di spacciarsi a nome mio e di chiedere soldi a nome mio insomma. Allora la prima cosa che mi viene in mente da fare è di cercare di tranquillizzare, insomma faccio un messaggio in Facebook dicendo che se dovessero ricevere inviti, lettere di questo tipo per fiattere gli cestinino e non mandino assolutamente soldi perché io sono qua, non sono ad Abidjan come sembrava che fossi e così. Ma insomma mi rendo conto anche che la gran parte della gente aveva già capito che si trattava di una bufala insomma, no? Rimane però il problema della posta, insomma di questo qualcuno che si è impossessato della mia posta. E quindi la password e quindi tutto quello che ci va dietro insomma, no? Comincio ad essere preoccupato per i dati insomma anche bancari, la carta di credito e così via. E quindi cerco di verificare, insomma, se avevano fatto prelievi dalla carta di credito e non sembra. E quindi non sono ancora arrivati là, ma potrebbero arrivarsi. E quindi cosa fare, insomma, no? Cosa fare perché con Libero non riesco a mettermi in contatto, visto che posso spedire ma non posso ricevere, no? Non posso più entrare e quindi guardare. E Libero non ha, al momento non aveva un'altra casella postale in cui potermi mandare eventualmente degli avvisi. E non c'è modo di parlare con un funzionario, insomma, con un call center di Libero. Quindi non c'è modo di parlare. Nelle istruzioni non trovo granché. Allora la prima cosa che faccio, cerco di telefonare alla polizia postale. La polizia postale non mi risponde ai numeri che ci sono. Questa di Padova non mi risponde, quella di Treviso non mi risponde. Insomma, ne chiamo tre quattro finché una mi risponde. E mi dice che non sa risolvere il problema, insomma, che comunque vale la pena anche di fare denuncia. E mi dice che sarà difficile, anzi molto improbabile, che riesco a rientrare in questa mail, insomma, in questa casella di mail. Vado dai carabinieri e faccio denuncia, insomma. E anche finché sono dai carabinieri a fare denuncia mi arriva una telefonata dalla Germania, preoccupato se deve mandare questi soldi o no, eccetera. Insomma, quindi un po' di cose si sono mosse, no? E poi torno a casa, ho fatto questa denuncia e sono un po' preoccupato, insomma, no? Perché tutti i miei contatti sono poi in questa casella di mail, insomma. Sono vent'anni di... ma anche commercialista, insomma, condominio, la banca, insomma. Tutti quanti hanno questa mail, ormai devi lasciare la mail dappertutto e lasci questa, no? E quindi sono un po' preoccupato, come fare, insomma, come non fare. Faccio anche questo piccolo avviso che ho fatto su YouTube, per avvisare anche quelli di YouTube, insomma. Visto che c'è, insomma, anche la richiesta di fare delle donazioni, no? Non sapevo com'è, come comportarmi. A quel punto vado a studiare meglio, insomma, le cose sulle note, insomma, sulle informazioni che trovo su Libero, sulla piattaforma, e vedo che c'è modo di fare una specie di denuncia, insomma, mandando i propri dati, mandando una fotocopia della carta d'identità. Ci vorrà qualche tempo perché ti rispondano, scrivono, e vedo e segnalo questa cosa, insomma, segnalo questa cosa attraverso questa opzione che veniva fornita, studiando bene, sulla piattaforma di Libero. Scrivo anche su questa piattaforma un altro indirizzo dove potevo essere raggiunto, cioè l'altra mail che ho, insomma, no? In realtà il giorno dopo mi arriva l'informazione che posso rientrare nella mia casella di posta digitando un nuovo codice di accesso, cosa che faccio è ritorno nella mia casella di posta. Allora, sono tranquillo perché ritrovo tutti gli indirizzi delle mail che mi sono arrivate, però non trovo più la rubrica, non trovo più altre funzioni, insomma, quelle sono completamente azzerate. Comunque sono contento lo stesso perché, insomma, sono arrivato a rientrare, quindi non ho perso tutti i contatti e quindi il problema sembra risolto. Se non che mi accorgo, passa un giorno, non ricevo una mail, ne passa un altro, non ricevo una mail. Quindi in due giorni, cosa strana perché in genere mi arriva sempre qualcosa, insomma, no, l'ultima mail è sempre quella che ho lasciato quando, poco prima di questo evento. E allora provo a mandarmi una mail per vedere se mi arriva e non arriva. Mi faccio mandare una mail da un'altra persona e non mi arriva. E allora cerco di capire perché, insomma, no, non riesco a rendermi conto perché non arrivi una mail. A questo punto cerco di ritornare in contatto con Libero, con la segnalazione, cerco di segnalare questo problema a Libero. Nel frattempo, come dire, mi do da fare per vedere, insomma, traffico e non trovo niente. Ad un certo momento, furia di trafficare, trovo in cima alla posta di arrivo una specie di triangolino. E allora ci clicco sopra e vedo che c'era un filtro che reindirizzava la posta ad un altro indirizzo, insomma, ad un altro utente. Io non sono in grado di usare, non ho mai pensato di usare quel filtro, insomma, non mi può essere neanche capitato per sbaglio di inserire quel filtro di reindirizzamento della posta. Ma sta di fatto che la posta in questi due giorni era arrivata a lui. Nel frattempo, però, prima di accorgermi di questo, io avevo scritto a Libero, segnalando il problema. Diciamo così che il problema è a questo punto, una volta che ho tolto questo reindirizzamento, ho controllato e la casella mi funziona correttamente adesso. La posta riesco a riceverla. Mi mando una mail, me la faccio mandare e la ricevo. Però nel frattempo avevo scritto a Libero e Libero oggi mi risponde. Ma dove mi risponde Libero? Proprio su questa casella di posta, non su quella che gli avevo dato prima, ma solo su questa, segnalandomi anche questa eventualità, cioè che ci potesse essere un filtro che reindirizzava le cose e mostrandomi anche, insomma, indicandomi anche dove, spiegandomi dove si trovava. Ma allora mi pongo il problema. Se non ci fossi arrivato da solo, e Libero mi manda su questa casella, dove gli spiego che non posso ricevere posta, come avrei potuto risolvere questo problema a seconda delle sue indicazioni? Dico questo perché spesso ci troviamo di fronte a questa cosa, insomma, no? Come all'inizio mi sono trovato di fronte a questa cosa che io volevo segnalare, però non potevo ricevere, no? E quindi, avendomi tolto l'indirizzo, io da questa casella non potevo più ricevere niente, insomma. Sta di fatto che ho capito che bisogna avere almeno due indirizzi con la possibilità di mandare nell'altro indirizzo, insomma, la posta che non si riceve da uno. Ma detto questo, insomma, ecco, finita qui, mi sembra l'avventura. Tutto è come prima, insomma, potete... La password è protetta, insomma, adesso ho cercato di cambiare, ovviamente, tutte le password e queste cose qua. E quindi, insomma, tutto ritorna come prima. La comunicazione può rimanere invariata. Tutto risolto, ecco, felicemente, per fortuna. È da tenere presente questa cosa, insomma, che è importante, insomma, avere almeno una mail secondaria. Vedo che alcuni siti la propongono, insomma, no? A cui poter fare riferimento per comunicazioni anche di questo tipo, insomma, anche comunicazioni che riguardano furti di identità e cose varie. Comunque mi sembra che su YouTube non sia successo niente, su Facebook non sia successo niente, altre cose importanti io non le ho. E quindi tutto ok. Grazie, un saluto e una buona domenica. Arrivederci.